C'è un progetto che è differente, che non ha un'idea, non ha un testo che l'ha scritto Antonio Arca, io, Dago Mugger, ho giubiliato un passo, tengo lì insieme, diremmo, la narrazione, di ovvio la narrazione, ma sviluppo a modo mio una bocchia bassa. E qui, diremmo, è un passo in più, diremmo, è un'idea di collaborazione, è un'operazione, e poi vogliamo rispondere, diremmo, tra le nostre due situazioni. E qui, se si fa, abbiamo inventato un personaggio che ripresenta e che include, e tra l'identità, è che gli è Antonio Corsarcatta, in due se riconosce, è sicuro, il principio di Corsica, Sardegna e Catalogna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.